Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi sono su Pig, il gioco dei porcelli, dei porcelli assassini, cioè di Peppa Pig. Sì, oggi ragazzi ci andremo a giocare, ma lasciate like, ok già, oh ragazzi questa è la mia mappa preferita, io qui ragazzi sono un master, ma andiamo, vai ragazzi andiamo su Pig, 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 allora vediamo qui se c'è qualcosa, ah, niente, ragazzi ma si sono inculati tutto. E' giusto perché sono rimasto tipo, oh Dio mancano i due minuti, che cavolo ha quel coso, brutto cesso di cacca, ah, via non mi prende bene, non mi prende, che cavolo è, ahhh, ma ci fatti, ahhh, ma io è felice, ma chi mi vuole, chi mi ha voluto, chi mi ha voluto, ma, no dai, no ragazzi, ahhh, Che muove, si muove, ma ragazzi come faceva a resistere, due, a due, c'è, era questo, addi, guai, scopo, mi ha ucciso, vabbè, ragazzi tanto Pig è così, c'è, ti uccidono, sono i porcelli killer, Ok, vediamo l'intermensione, sei, cinque, comunque voglio essere io, cioè perché almeno io ho visti, almeno tutti, allora, mettiamo la mia mappa preferita, che è, come vi ho detto, il cannibar, che mi piace molto, Eh, ragazzi, io ci sto giocando con Noemi, ma è bellissima, allora, che fatti, sì, ma, che ne dite se porterò, ah, forse mi sentite poco, che ne dite se porterò un video dove io sfido Mary su Piggy, cioè, Vabbè, vabbè, vediamo, io ho messo, ti prego, fai che sono io, ti prego, ti prego, ti prego, perché, perché sta noob, aspetta, ragazzi, non faccio discriminazione sui noob, però, scusa, c'ero io, Dove essere io il porcio, vabbè, 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 ok, vabbè, sempre una successoria, che ti vengo a prendere, questo, ragazzi, sarebbe vista il patato, e noi che andiamo in questo nuovo, in questo, Se avuto a me, in questo circo, va bene, allora, andiamo, vediamo cosa abbiamo, oh, cavolo, aspettate, ok, aspetta, ma se chiudo questo, ecco, ok, aspettate, ok, vediamo, vediamo cosa abbiamo, Niente, la cosa viola, la cosa viola, ragazzi, serve, mi sa, per qualcosa, Peggy, è il servoiatra, ma che bello, allora, qui intanto è una tizia che largava, allora, qui, la chiave giualla, la chiave giualla, la chiave giualla, la chiave giualla, la uso, Ah, ah, giusto, ciao, 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 il porto non ditemi che mi hanno preso la chiave viola cioè io voglio sparare io voglio dare io la soddisfa non mi hanno preso bravi andiamo allora vediamo dove sta il porto ok non c'è perfetto allora io voglio il porto sta lì no parcio fammi non tanto non mi vede non mi ha visto allora ho la pistola poi sui cosi lei di dare una spalatina al nostro porto che stai ma non ce l'ho più da ma che quella tipo che ha fatto di poi muovere il 500 cm no ma ragazzi non da prendere i proiettili lì in questa stanza lì questa stanza qui davanti però no dai dai so tizia di cacca togliti tizia e tu richiedi quello ma non ce l'ho allora no no ci sono proiettili non abbiamo i proiettili ma come sparo dai ma chiedo non è così tanto in puntare che forse stavano qui no no mai cos'è sta roba tizia e tu ma che chiave gialla vediamo se c'hanno qualcosa qui ma quanti proiettili buoni succosi c'hanno prendiamo questi prendiamo questi vai porcio sei mio porcellino dove sei allora il nostro porcellino poi c'è lì ah eccoti qui ma se mia sei ucciso godo ragazzi dai fate tutto quello che volete siamo riusciti a sparare questo porco bello 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 allora qualcuno stanno cercando un po' di chiavi la chiave lancione ci serve ma chi ha la chiave lancione si può fare un po' di giù ma questo è più facile si è più facile allora qualcuno deve avere dentro la chiave gialla allora però ragazzi se non siamo riusciti non fanno niente zoom no non abbiamo niente siamo poveri ah perchè mi sono perso no perchè siamo poveri noi ok per questo dimmelo tu perchè siamo poveri ma tu hai già fatto qui tu chiedi alla chiave verde ma chi se ne frega la chiave allora qui è che è stato usato e ho visto allora vediamo qui vediamo qui vediamo qui ah qui è tutto non ho capito cosa serve ma ma signorini non mi fate capire ah qui per il codice che serve il coso ma sto porcello è stupido nooo forcellone allora allora che c'è perchè quella chiedeva la chiave gialla che c'è oh ma questo è intelligente ha fatto una cosa go 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 ha tornato un'intelligentissima certo quindi io ragazzi la seguo nel dubbio e c'è la max tizia ma che c'è fa no pochia lo sei risvegliato ah tu ti chiedi quella aiuto dai questo porcello è morto con me no porcello no porcello non mi prendere mai io sono troppo pro allora signorina tu hai fatto qualcosa che cotto vai scappa dal porcello sta dietro no sta dietro perchè vogliamo ah si mi chiede sta dietro allora tu chiedi che cotto ma in che cotto ah c'è la statizia no ce l'ha lei oh grazie 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 siamo riusciti a scappare da pigi il nostro porcello ragazzi e ragazzi ha perso ha perso va bene va bene ragazzi vabbè famo un'altra partita vabbè famo un'altra partita vabbè prima di salutarci vai voglio essere il porcio di FZO smona non è stata non è riuscita a fare dai allora io scelgo questa mappa perchè la mappa dove sto fare allora amici miei perchè un'amesso no 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 vabbè fammola school fammola school vabbè fammola school school perché fa schifo però vabbè allora io voglio player player voglio essere io perchè te l'ho io a fare il porcio perchè io sono un porcio vai io ti prego crepe il 9008 ragazzi c'è una sfiga ragazzi c'è una sfiga non ho più il mio istinto sporcio ariola il mio nome è mister prender sto cercando il mio amico che viene dalla scuola ok che mi piace andiamo andiamo a cercare questo amico da come ho capito allora eccoci qui no ok ok ecco ragazzi ecco qui smitte quindi dobbiamo incontrare qualcuno allora ah ma qui si può aprire gli annodietti no ok abbiamo già aspetti qualcosa ma io non vedo niente ah qui c'è la porte vero allora entriamo in questa neppi ho trovato la chiave violaccia ok ah ragazzi ho perso ho perso ma mi ha fatto paura ma mi ha fatto paura vabbè ragazzi noi diciamo vabbè finiamo qui vabbè ragazzi noi ci vediamo in un altro bellissimo video non diventate porci